e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di fortnite prima di iniziare volevo dirvi che abbiamo aperto, ho aperto il server di discord dove potete chiacchierare con me, scrivermi e io metterò tutte le varie informazioni di quando caricherò i video, se non riuscirò a pubblicarli eccetera eccetera link è in descrizione, il server si chiama l'orix fox, è tutto attaccato e la l e la f sono maiuscole detto questo iniziamo, prima un giocatore singolo, anzi no, partiamo subito con la sfida tra cicchini b3 oh yeah ecco ragazzi, sono buttata all'ultima perchè ho avuto flori che fa il minuto l'altro tutto, guarda un cartellato e la riduzione, non so per quale motivo, ma niente di che ragazzi, niente di che si chiara l'ora si chiara? Prima, no, no, ma non so per qualequilla in realtà, si chiara? si chiara? anche tanto, visto che non c'è nessuno, serà in realtà, non credo che mai questo che mi conosca, mai stato giusto la notizia della bomba abbelenata adesso non mi pare che l'abbiano aggiunta però la dovrebbero aggiungere nel caso e secondo me è veramente bella anche perché richiama un po' la bomba fumogena che secondo me era molto utile io non ho mai avuto possibilità di provarla però so cos'è e cosa fa e che c'è stata e a parere mio potevano anche venire nel senso che era molto utile in certi casi però diciamo che anche secondo me se proprio dovevi buttare qualcosa perché non ti cioè dovevi avere uno slot libero probabilmente buttare quella lì può anche vederti adesso io non lo so però almeno una cosa avrete nutre nel senso comunque giochiamo giochiamo un pochettino se in alcuni momenti non parlo molto tranquilli cioè devo giocarmela bene anch'io poi essendo tra cecchini devo essere abbastanza pochi entrato e voi lo sapete più di me allora io qua non vedo nessuno faccio un po' di marco per fortuna non l'ho distruttuto perché se no chiuro che non l'ho fatto apposta pensavo di non aver colpito il pallino ci ha pensato di non colpire seriamente non c'è nessuno non ci credo no dai raga è impossibile potremmo anche andare a luttare anche se non mi fido del tutto di questa cosa se non lo stiamo vicino siamo fuori safe però per ora fa lo stesso anche non arriva le bombe prendo ah beh magari dici no cioè con le due in più non fanno niente guarda nooo non ho più slot che bello perchè possono essere molto utili specialmente se non l'hai lancia grafica cioè avercelo potrebbe essere anche stato utile no ma dico io sicuramente non c'è nessuno non c'è nessuno nessuno anima qui va eh non vedo non vedo posso capire avere neanche un anima morto ma neanche un animalismo dico io e non è che dici oh ci sono misteri e tramonto no è un normalissimo giorno un normalissimo partitino a meno che non ci sono tutti i campioni che stanno fermi immobili a non fare niente c'è già non mi frega si forse no il materiale è molto importante anche se il 999 di legno 999 comunque potrebbe finire in una build battle se così si può finire che va a richiamare minecraft eh vorrei dire vorrei dire c'è una cassa oh un medichitto no dovremmo essere appartamento a posto eh se troviamo se anche troviamo magari un salvato di soccino o tipo adesso non so se in questa vitra c'è ancora ma credo di si safe c'è la cesta e mamma mia stavo dicendo se anche troviamo tipo che non so se c'è in questa versione il fucile d'assalto il fucile d'assalto con mirino possiamo anche lasciarlo lì perchè non sono molto bravo e poi non mi piace particolarmente se troviamo quello nuovo magari possiamo metterlo al posto della caccia e di questa il fucile d'assalto l'acqua il naked lo tengo le vende preferirei tenerle contando che non abbiamo gli scendini qua c'è qualcosa ma c'è già stato qualcuno lo abbiamo chiamato gli scendini le granate cosa faccio le teniamo qua si dai o almeno per ora ma non sembra esserci nessuno non sono che fatta niente credi niente e' una roba incredibile ragazzi andami safe intanto siamo in dici a sette ho già in dici a sette beh buono 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 o magari non è poi chissà che una roba però strano abbiamo visto ancora nessuno 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 e non sono io che campio va lo sapete anche voi benissimo allora davanti non va in safe quindi salirci potrebbe essere un po' che dite voi vero eh già proprio come dite voi un po' di matto non fa mai male a meno che non hai a meno che non hai nove 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 aspetta ne ho perso il conto 999 di legno 999 di pietra 999 di ferro metallo come volete chiamarlo allora allora magari puoi anche pensare che se anche ne perdi un po' se anche non te lo rifai non si prende finchè non arrivi lì ogni materiale è buono questo è preso cerchi vi consiglio legno perché come sapete è mai qui quando è piazzato? un attimo che faccio una roba un attimo che faccio una roba non si può darsi può darsi no ma non voglio io mi sarebbe molto cosa per sicurezza ma davvero molto indietro ma materiale se no qui non ci siamo un po' dipende dai dobbiamo subito andare in 6 non prima di essere però dai che siamo in 11 facciamoci il medikit di shieldini non abbiamo bisogno magari di uno shieldone non serve male di un succo succoso andiamo oh dai potremmo fare la mia prima di fare reale e su la sfida tra cichini neanche nella normale no a me non andarcela a chiamare va allora facciamo una roba del genere non parte che si vede un po' più in fretta anche dai allora allora paura 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 mi ca- arriva arriva la via 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 che stiamo per vincere dai raga che stiamo per vincere no raga no shieldini andiamo un po' zig zag non ho pronti attenzione di perdere come come vi ho già dimostrato ecco finito il materiale perfetto cofema bella domanda davvero davvero bellissima scupe paciente domanda un po' di legno così facciamo un altro portino in safe tocca se mi sei stanno puntando però aiuto zig zag salta zig zag salta zig zag salta zig zag salta bevo lo shieldone presto 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 che dopo abbiamo anche fucile da tanto termico comino questo veramente non l'avevo mai trovato in realtà mi sono davvero davvero molto felice questo che avevo trovato oggi con voi allora possiamo vedere dove sono i nemici oh mamma mia la faccina si fa sempre più piccola e io giustare calmo mi sono in fretta c'è un cespuglio in sala vai entra in safe ho seguito il ladro e magari non faccio tutto ah no 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 raga no non ci credo no non ci posso credere no innanzitutto voi dovete mettere like iscrivervi io voglio ben dire che per questo video ragazzi è tutto vi saluto così ciao 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 ciao